Oggi vi racconto un fiore australiano bellissimo che si chiama Kangaro Po. Kangaro Po nel libro I fiori del bene lo chiamo il fiore dell'empatia, quindi pensate che bella missione che ha questo fiore. L'empatia è una qualità stupenda, veramente importante in ognuno di noi, che ci aiuta ad entrare velocemente in sintonia con l'altro, a percepirlo, a sentirlo. Quando manca questa qualità abbiamo un'immaturità relazionale, ci poniamo verso l'altro in una maniera non attenta alle esigenze e alla sensibilità dell'altro, quindi la missione di questo fiore è veramente importante.